ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi 26 febbraio siamo qui a portare la seconda uscita del film del campionato eccola qui la bustina arancione con lo sport week della gazzetta dello sport in copertina abbiamo frattesi e scamacca detto questo non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo subito ad aprire uno ce lo mettiamo da parte uno ce lo apriamo subito ma dove eravamo rimasti questo era il film del campionato quelle che avevamo trovato fino adesso vediamo cosa andiamo a trovare dentro questo pacchetto qualche spoiler era uscito ho cercato di non vederli ma inevitabilmente qualcosa me la sono spoilerata da solo è normale andiamo ad aprire questo pacchetto sempre molto molto gigante questa mattina sono andato in edicola e ne ho presi due e oltre questi ho preso anche dei pacchetti super calciatori e quindi ragazzi nei prossimi giorni li troverete sicuramente sul canale vi ho fatto votare la collezione che volevate vedere sul canale ha vinto le adrenalin della premier league plus e quindi attenzione perché arriverà anche quella bomba al secondo posto c'era super calciatori quindi ho preso anche qualche pacchetto super calciatori che poi ci andremo ad aprire magari in settimana o la settimana prossima vedremo detto questo vediamo cosa troviamo all'interno di questo pacchetto abbiamo simone inzaghi allenatore del mese di dicembre vediamo gli allenatori del mese cosa avevamo trovato eccoli qua avevamo spalletti e ora andiamo ad aggiungere anche inzaghi e andiamo ad aggiungere anche tiago motta con lo spezia situazione davvero davvero particolare perché era un passo dall'esonero e si è ritrovato poi invece ad essere l'allenatore del mese di gennaio poi abbiamo come giocatore del mese dusan vlaoic ancora qui alla fiorentina e si va ad aggiungere a colibali simone e poi abbiamo giacomino raspatori a vedete anche con in mano oltre che il trofeo il premio del miglior giocatore anche la carta quella di fifa ragazzi eccolo qui e poi abbiamo andiamo a vedere di queste sono davvero curioso allora abbiamo andrea petagna in rovesciata molto interessante poi abbiamo l'inter alto rendimento 14 risultati utili consecutivi poi abbiamo come sempre ovviamente una copertina della gazzetta dello sport e poi abbiamo abbiamo vlaoic alla juve con scritto vlaoic e zaccaria mercato esplosivo subito in gol all'esordio eccola qui quindi anche una figurina di vlaoic subito nella juve in questo film del campionato davvero davvero tanto vlaoic perché nella prima uscita avevamo trovato lo andiamo a rivedere subito eccolo qui eccolo qui abbiamo trovato miglior marcatore in questa lo troviamo come migliore del mese e lo troviamo anche con la prima figurina ufficiale panini alla juventus eccola qui inoltre ho acquistato anche le instant di vlaoic alla juve quindi appena mi arriveranno ve le farò vedere qui sul canale detto questo ora ce ne andiamo ad attaccare ma prima di questo vi voglio ricordare una cosa allora sto per far partire un nuovo format che si chiamerà ve lo dedico quindi come funzionerà io andrò ad aprire dei pacchetti dei spacchettamenti che facciamo normalmente semplicemente se voi volete che io vi dedichi un pacchetto e magari vediamo chi tra di voi mi porta più fortuna io vi saluto vi dedico il pacchetto e vediamo magari chi mi porta più fortuna tra di voi se volete che io vi dedichi un pacchetto una sbustata sotto nei commenti o su instagram mi dovete scrivere hashtag te lo dedico e io magari una volta a settimana farò questo format dove aprirò delle delle bustine e vi dedicherò il pacchetto detto questo spero che questa idea vi possa piacere e noi intanto ci andiamo ad attaccare queste belle figurine come vedete questo è il cartonato alla fine le sto attaccando qui vedete mi sono portato avanti intanto qualcosina l'abbiamo attaccata in realtà più di qualcosina ma insomma me la sto prendendo un po comoda per non attaccarle tutti insieme quindi che dire ragazzi questo era il film del campionato il nostro appuntamento per quanto riguarda le sbustate è sicuramente nei prossimi giorni sicuramente lunedì nuovo video molto interessante per quanto riguarda invece il film del campionato vi ricordo eccola qui la terza uscita il 30 aprile e noi ovviamente il 30 aprile a mattina saremo qui con il film del campionato detto questo a me non resta che salutarvi ringraziarvi se siete arrivati fin qui mi raccomando vi ricordo l'hashtag te lo dedico per questo nuovo format grazie per chi mi ha seguito e buona giornata ragazzi grazie a tutti